Dottore, quali sono le caratteristiche di un genitore narcisista? Quali sono i comportamenti che assume e quali sono le potenziali conseguenze che può generare nei figli anche una volta che questi sono diventati adulti? Argomento complesso, si potrebbe parlare per ore, do qualche spunto per cercare di far capire come le caratteristiche del comportamento del narcisista che sono abbastanza chiare all'interno delle relazioni sentimentali quindi quando si ha a che fare con un partner a mio parere non lo sono altrettanto quando si parla di relazioni genitoriali molto spesso si pensa che il narcisista possa essere anaffettivo possa essere distante, possa essere disinteressato alla relazione ad esempio con il figlio questo non è esattamente così nel senso che se lo è, cioè se è effettivamente distante e disinteressato lo è solo su alcuni argomenti specifici della vita del figlio o dei figli ma non su altri quindi non è un disinteresse totale, assoluto anzi è un disinteresse che colpisce, diciamo così solo alcune aree della vita ad esempio la scuola, lo sport, l'affetto ce ne sono diverse le relazioni che può avere il figlio con altri ma semplicemente perché queste aree per il narcisista cioè per il suo tornaconto non sono interessanti facciamo un passo indietro e capiamo meglio questo concetto, questo aspetto il narcisista è colui che all'interno delle relazioni manipola e cerca di sfruttare le relazioni appunto per il proprio tornaconto personale cioè per il proprio benessere, per il proprio piacere per il soddisfacimento dei propri bisogni questo è vero all'interno delle relazioni sentimentali tanto quanto all'interno delle relazioni ad esempio genitoriali che sono quelle di cui stiamo parlando in questo video che cosa vuol dire? Che il narcisista vede principalmente la relazione come una dinamica di possesso ossia l'altro, ad esempio il figlio, mi appartiene motivo per cui ad esempio quando il figlio muove un qualche passo in autonomia al di là, quindi al di fuori dell'ambito di controllo del genitore narcisista questo può provare rabbia, può provare invidia, può provare rancore proprio perché non vede i successi del figlio come vantaggiosi per se stesso ma esclusivamente per il figlio quindi se il figlio acquisisce valore, potere, autonomia eccetera all'interno del mondo inevitabilmente lui, il narcisista, il genitore narcisista non può avere un proprio tornaconto per questo l'atteggiamento spesso è quello della critica di sminuire, talvolta può diventare vessatorio sempre però riconducendo tutto, sempre con la sua modalità manipolatoria all'interno del contesto del lo faccio però per il tuo bene ti critico per il tuo bene ti mortifico per il tuo bene ti limito ad esempio la libertà in alcuni contesti per il tuo bene, cioè fa passare come dire, questa manipolazione come invece la massima espressione dell'amore, del desiderio, dell'attenzione che dà appunto al figlio che quindi si costruisce nel tentativo di andare a soddisfare i bisogni del genitore narcisista quindi giusto per dare due informazioni cruciali il narcisista non è assolutamente disinteressato alla relazione con il figlio come spesso si può credere è interessato a se stesso e vede il figlio come un mezzo per andare a migliorare appunto il proprio stato questo però avviene solo negli ambiti e nei contesti di interesse che il narcisista ha per sé, propri quindi ci sono alcuni argomenti rispetto ai quali completamente disinteressato e quindi tende ad essere anaffettivo appunto distante ce ne sono altri invece dove è particolarmente ingaggiato, interessato e quindi tende a manipolare, controllare sempre però con l'ottica della critica dello sminuire, dell'aggredire, dell'attaccare del vessare facendola passare come però una strategia d'amore cioè lo faccio per appunto il tuo bene tant'è che quando il figlio mette in atto un qualsiasi comportamento autonomo quindi individuale ad esempio di svincolo, di affermazione personale eccetera non fa come il genitore che qualche collega più illustre definirebbe sufficientemente buono e quindi si sente sicuro valorizza le scelte del figlio ma anzi le critica ulteriormente perché le vede come lontane dal soddisfacimento dei propri bisogni o potenzialmente appunto distanzianti rispetto a ciò che a lui serve questo implica che il figlio porti con sé tutta una serie di conseguenze legate al comportamento di un genitore narcisista ad esempio si parla di falso sé in psicologia ossia l'incapacità in termini macroscopici del figlio di andare a definire cos'è il proprio sé cioè quindi le proprie caratteristiche i propri bisogni le proprie emozioni non è insolito che figli di genitori narcisisti siano completamente ignari dei propri desideri dei propri bisogni delle proprie emozioni ci possono essere dei contrasti ad esempio delle competizioni tra fratelli ci può essere l'incapacità di andare a valutare ad esempio il proprio valore ad esempio o le proprie competenze le proprie capacità in maniera autonoma ma esclusivamente in funzione di una eterodeterminazione o meglio io valgo tanto quanto i risultati ad esempio che sono in grado di andare ad ottenere e ovviamente poi si innesca quel circolo vizioso per cui essendo figlio di un narcisista difficilmente verranno riconosciuti i risultati ottenuti e quindi il mio valore sarà sempre eterodeterminato quindi da ciò che compio da ciò che ottengo che però inevitabilmente sarà altrettanto basso quindi è come se di fatto il figlio si costruisse in funzione del soddisfacimento dei bisogni dei genitori o del genitore tant'è che capita spesso in terapia che il figlio del narcisista poi si racconti molto più come un partner del genitore stesso cioè un partner in un qualche modo emotivo un partner servizievole un partner down in un qualche modo che appunto lavora e vive in funzione del soddisfacimento dei bisogni del genitore partner e questo ovviamente ha delle conseguenze enormi nella vita adulta nel senso che poi all'interno del processo di individualizzazione e di sviluppo anche della personalità del bambino del figlio poi è necessario appunto ci sono tutta una serie di momenti di svincolo è necessario riuscire a come dire ottenere e soddisfare la propria affermazione cosa che se si ha un genitore narcisista non è assolutamente scontato l'altro rischio una volta diventati adulti quindi di non aver sviluppato una piena affermazione di sé ma vivere all'interno di quello che abbiamo definito appunto essere il falso sé è l'andare a replicare un modello cioè è come se ad un certo punto il figlio del genitore narcisista diventato adulto si sentisse in credito rispetto alla vita e quindi andasse a replicare fosse portato a replicare lo stesso meccanismo lo stesso atteggiamento all'interno della propria relazione genitore figlio quindi con il proprio figlio con l'ipote diciamo così del narcisista e questo poi innesca ulteriormente un circolo vizioso che finché appunto non viene spezzato è come dire portato appunto a vivere in eterno quindi queste sono un po' le caratteristiche sia dal punto di vista del comportamento del genitore narcisista nei confronti del figlio sia quali possono essere le conseguenze gli effetti appunto che avere un genitore narcisista implica sia nella vita del figlio in quanto figlio sia poi nella sua successiva vita adulta grazie a tutti